Il sito olandese Travelbird ha pubblicato una classifica con i prezzi delle 327 spiagge più visitate al mondo. Ebbene sì, sul podio, al secondo posto, troviamo una località italiana, Finale Ligure. Su oltre 90 paesi sono stati esaminati i costi di una tipica giornata al mare, unendo ad esempio il prezzo dei lidi, delle consumazioni al bar e anche delle creme solari. E' così che Finale Ligure diventa una delle spiagge più care del mondo, con una spesa media giornaliera di 76,59 euro, seconda solo a Dan Savata a Numea, in Nuova Caledonia, che al giorno costa circa 2 euro in più. Ma non è l'unica località marittima italiana ad essere stata inserita nella lista. Al quarto posto troviamo Solanas, in provincia di Cagliari, con un esborso medio aggiornata di 65,46 euro. Tra le prime 50 ci sono anche l'Agno, in provincia di Salerno, al 35esimo posto, e la Sarda Maria Pia, in 42esima posizione, con una spesa media, rispettivamente, di 52,26 e 48,86 euro. Per trovare la località italiana più conveniente dell'elenco, invece, bisogna scendere al 101esimo posto, dove troviamo la Spiaggia Rossa, sempre in Sardegna, con un costo medio di circa 44 euro aggiornata. Sono certamente gli elevati prezzi dei lidi privati ad aver fatto la differenza per quanto riguarda le spiagge italiane. Solo a Finale Ligure si attesta attorno ai 35 euro aggiornata, e questo la rende ancora più cara rispetto a mete esotiche e famose come Waikiki nelle Hawaii, South Beach in Florida, Venice Beach a Los Angeles e Copacabana a Rio de Janeiro, tutte con un costo medio aggiornata, compreso fra i 42 e i 65 euro. A Finale Ligure